Un sabato 14 gennaio, Gesù mangia con i peccatori pubblicani, scandalizzando gli scrivi dei farisei. Ancora una volta questa immagine di spirito critico, rivolto a Gesù da parte dei cultori, del formalismo religioso, si distanziano dalla dimensione del peccato perché presumono di essere perfetti, privi di peccato. Il primo dei peccati è proprio la presunzione di essere perfetti, di non guardare con attenzione nei confronti delle nostre mancanze quotidiane anche la povertà che abbiamo disseminato del mondo, in nome molto spesso della civiltà cristiana, in realtà per far sì che fossero concentrati i privilegi nelle nostre terre, impoverendo quelle degli altri. E questo è accaduto e accade anche oggi nella presunzione di un suprematismo superiore, autoreferenziale, chiuso in se stesso, un peccato profondo, del quale dovremmo avere costantemente coscienza e chiedere la misericordia di Dio che ci porti lungo la strada della conversione e del cambiamento della nostra cultura, del nostro modo di stare al mondo, dei nostri comportamenti, di peccatori tra i peccatori. Levi, o Matteo, che viene invitato a seguire Gesù, non ha esitazioni, lo fa con immediatezza, senza stare lì a chiedersi se lasciare il suo ruolo di esattore gli porta e riporti degli svantaggi, lo segue. Gesù va in casa sua e mangia con lui, con i pubblicani, con i peccatori, perché per questi è venuto nel disegno di salvezza di Dio, ma non è venuto per i peccatori immaginando che sia un popolo particolare, corrotto e destinato alla perdizione. No, quel popolo di peccatori è l'umanità intera. Ecco, per questo è venuto, non per i giusti e i santi, che evidentemente non hanno luogo in questa terra, fintanto che non vi sarà una disponibilità alla conversione. La precondizione è il riconoscere di essere peccatori, punto e basta. Una persona che pensa di essere giusto a prescindere, di interpretare correttamente il Vangelo di salvezza, io sono cristiano, incorruttibile, giusto, ho operato bene, ho adempiuto agli obblighi morali generati da questa cultura. Ebbene, lì di fatto esprimo in sommo grado la mia dimensione di peccatore nella insensibilità che ho nei confronti del rispetto dell'altro, del prossimo, perché non sono certo un samaritano che soccorre colui il quale è stato ferito sulla strada. No, vado per la mia strada, non soccorro nessuno, addirittura se chiede aiuto lo respingo perché ho altro da fare. Questa è la dimensione del peccato. Poi sì c'è anche l'esplicita perdizione, ma entrambi siamo peccatori. Così si esprime Papa Francesco al commento del Vangelo di oggi. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccati. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro peccato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo, aprire un futuro nuovo indipendentemente dalla realtà che stiamo vivendo nel qui ed ora, fatta appunto dalla dimensione del peccato. Una volta ho sentito un detto, un detto bello. Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Non c'è santo senza un passato che abbia caratterizzato la dimensione del peccato. Pensate a Francesco, suo giovanile passato, barriero, dissipatore, festaiolo, ma quel santo ha saputo immergersi nel futuro. È il peccatore che diventa santo in una prospettiva autenticamente salvifica, ma parte nella riconoscersi peccatore. È bello, sottolinea Papa Francesco, è bello questo. Questo è quello che fa Gesù. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. Innanzi a Gesù nessun peccatore va escluso. Nessun peccatore va escluso, sottolinea con forza Papa Francesco, chiamando i peccatori alla sua mensa, egli li risana, ristabilendoli in quella vocazione che essi credevano perduta e che i farisei hanno dimenticato, quella di invitati al banchetto di Dio. Invitati al banchetto di Dio e Dio chiama l'intera umanità. Nonostante i grandi peccati che noi compiamo nei confronti dell'altro, della natura, del prossimo, se i farisei vedono negli invitati solo dei peccatori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al contrario ricorda loro che anch'essi sono commensali di Dio e dunque anche i farisei, anche i presuntuosi di ogni tempo, compreso il nostro, i quali pensano di essere la perfezione della civiltà cristiana, riconoscono i loro peccati, si facciano più mansueti e lieti di essere invitati al banchetto di Dio che ci chiama alla conversione attraverso l'infinito amore e misericordia che Dio ha donato attraverso il suo figlio Gesù, il figlio dell'uomo, il verbo che si è fatto carne. Dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro, passandovi da Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì. Questo è molto semplice, seguimi, ma quanti di noi di fronte a questo invito di fatto ci alziamo dal banco delle nostre occupazioni quotidiane e lo seguiamo? Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli, e con Gesù i suoi discepoli, erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo Gesù disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E questa chiamata dei peccatori riguarda ogni essere umano, l'intera umanità. Chiunque presuma di essere giusto e quindi non risponde alla chiamata di Gesù, in realtà, vive intensamente nella dimensione del peccato, ma anche lui, per quanto giusto si creda, è chiamato al banchetto di Dio, il quale ci mette in evidenza i nostri peccati e contemporaneamente ci dona la grazia della sua misericordia, del suo amore. Ma il punto centrale è che a questa chiamata noi dobbiamo rispondere con l'immediatezza di Levi o Matteo, questa immediatezza che risponde al seguimi alzandosi e seguendolo. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.